antipasto mentre scelgo il film che vedrò il primo film che vedrò durante questo viaggio c'è una vasta scelta di film qui su Turkish Airlines tra premier, nuovi film e altre categorie inoltre cosa molto importante per me ma per tutti noi c'è il wifi questo è davvero l'aeroporto più bello che abbia mai visto eppure viaggio tanto e ci sono anche tantissime nuove aperture di brand top brand di lusso sia moda che gioielleria ma tra i più top questo aeroporto è fantastico ok siamo alla lounge di Turkish Airlines qui all'aeroporto di Istanbul e sto per entrare proprio ora passo il mio biglietto oh no ho sbagliato ok ed eccomi dentro guardate che bella qui c'è un aeroporto eh sì c'è un pianoforte no ragazzi scusatemi ma c'è un pianoforte che suona da solo magico uno dei tanti punti ristoro perché ce ne sono diversi e fanno piatti differenti cucine differenti angolo tv quante tv guardate che spettacolo ragazzi c'è il golf praticamente in 4d non so come definirlo e ora lo proviamo questa lounge è davvero enorme ecce cibo per tutti i gusti ricordate che